Stai a casa a mangiare tutto il giorno? Troppo stanca per fare esercizi o pensi di essere troppo vecchio? Quello che ti serve è Power Burn di Gymform, una conquista biomedica che ti offre fino a 1200 contrazioni in 10 minuti, per rassodare, tonificare e appiattire la pancia, stando semplicemente seduto e rilassato, senza dolori o sforzo. La tecnologia EMS è usata da anni per la riabilitazione. È l'ideale per chi non può allenarsi, ma i normali dispositivi EMS lavorano su un solo gruppo muscolare alla volta, quindi ci vuole un'eternità per vedere i risultati. Ma Power Burn possiede sei po' di modellamento che agiscono sugli addominali alti, bassi e medi e in profondità nelle fibre, così sviluppi una maggiore massa muscolare magra e addominali scolpiti più velocemente che mai. La termoimmagine dimostra che coinvolge più muscoli rispetto ai crunch per risultati sorprendenti. Ma soprattutto il cavo di alimentazione si allunga per adattarsi a qualsiasi corporatura, arrivando perfino alle maniglie dell'amore. I microcomputer intelligenti offrono sei programmi con un massimo di dieci livelli di intensità. A differenza dei dispositivi che lavorano su una sola area, i due grandi po' di modellamento di precisione di Power Burn e i cavi consentono di agire su ogni area, anche sugli addominali obliqui difficili da raggiungere, braccia, gambe e glutei. Può aiutare a ridurre le irregolarità della pelle, il tutto senza sforzo per le articolazioni. Quindi se credi di essere troppo vecchio per allenarti o se vuoi solo sederti sul divano e rilassarti, ripensaci. Ora puoi avere un corpo sano e forte con Power Burn. Power Burn viene fornito con un microcomputer intelligente e regolabile, completo di sei programmi e dieci livelli di intensità. Inoltre riceverai la guida nutrizionale per ottenere risultati ancora più rapidi e due grandi po' di modellamento di precisione per rafforzare, tonificare e rassodare tutto il corpo. Utilizzando Power Burn solo 10 minuti al giorno, ti garantiamo risultati che ti cambieranno la vita in 10 giorni. Pensa, puoi avere tutto. Power Burn, la guida nutrizionale e due grandi po' di precisione. Power Burn ha il potere di cambiare tutto il tuo corpo e la tua vita senza stravolgere il tuo stile di vita. Acquistalo subito!